Ciao ragazzi bentornati, oggi voglio portarvi con me nei sette giorni a partire da oggi in cui studierò Flutter. Che cos'è Flutter? Flutter è un framework che permette di sviluppare un'applicazione su più dispositivi, quindi sia mobile, iOS e Android, sia su desktop, su Mac, su Windows, su sistemi operativi diversi. È appunto un framework che utilizza come linguaggio di programmazione Dart, non ho mai usato Dart, non ho mai usato Flutter, quindi sarà una settimana molto divertente. L'idea qual è? Sempre con un metodo molto pratico in cui guardo sì la documentazione, metto un po' le mani, ma poi mi do un progetto in questi giorni per arrivare a uno scopo ben preciso, di creare per il mio sito, eccolo qua, la parte diciamo utente registrato, ovvero una parte di login per permettere all'utente di loggarsi tramite l'app per mobile o desktop, adesso vediamo dove arriverà, dopo il login avere l'elenco dei corsi che ci sono già stati e per ogni corso poi avere, come sul sito per gli utenti registrati, tutte le lezioni che ci sono state, in modo da poter seguire i corsi anche in un momento successivo o un po' quando gli pare. L'idea è questa, mi piacerebbe creare questa applicazione mobile, ma anche Dexo perché no, il problema è che non ho idea di come approcciare la cosa, quindi oggi inizio a studiare, tra l'altro studierò in live su Discord, quindi se non siete nel mio server Discord, link in descrizione, potrete partecipare un po' dietro le quinte di questi video, quindi studiamo un po', iniziamo oggi, vediamo alla fine della settimana come andrà. Iniziamo! Questo primo giorno è stato molto interessante perché avrò scaricato qualcosa come 50 giga minimo, ma non sto scherzando, però è stata una figata. Dunque, da cosa siamo partiti? Sono partito guardando Dart, Dart che è il linguaggio che è alla base di Flutter, su questo sito dart.dev, quindi sono andato qua, mi sono visto un pochettino di cose e ho iniziato a giocare su questo dartpad.dev, questo ID online in cui potete scrivere codice, eseguirlo e vedere subito qua il risultato. Non ho fatto grandi cose, ho cercato solo di capire un po' la sintassi di base, capire come venissero tipizzati i dati, quindi ho giocato un po' qua all'inizio, soprattutto l'ho fatto mentre scaricavo le cose, perché poi a un certo punto ho detto, vabbè Flutter installiamolo, andiamoci subito con il mio bel reward oggi per capire come farlo. Ho seguito l'installazione per macOS, perché ho un Mac e all'inizio l'Sdk di Flutter non è neanche così grande, ma poi bisogna fare questo bel comando Flutter Doctor che controlla che ci sia tutto. Ora, in realtà forse non c'è neanche bisogno di aver tutto, però mi chiedeva anche l'Sdk di Android, mi chiedeva che Xcode fosse completo di tutto, insomma, ho iniziato a scaricare cose, e alla fine il mio Flutter Doctor mi ha detto, ok, adesso è tutto. Però nel frattempo sono andato avanti, ho trovato questo bel tutorial per creare un primo progetto, che in realtà mi ha dato un po' più di ordine nel mio modo molto pratico di voler affrontare le cose, e quindi mentre scaricavo, mentre installavo, ho fatto che iniziare a fare il mio progetto base, per prendere confidenza in questo caso con le classi di Flutter, perché era già una widget, c'è su widget che sono classi da estendere, bisogna usare questi sintassi, trovo a scrivere la build in questo modo, comunque, ho capito bene o male come annidare i vari elementi, eh? Morale della favola, voilà, alla fine ecco il mio Hello World su browser, quindi la parte diciamo Chrome ce l'abbiamo, Da lì però è venuto il bello, perché intanto avevo installato tutto l'SDK per Mac, per iOS, tutto il mondo Winnie Apple, e anche l'SDK di Android, e come vedete, usando sempre Visual Studio Code in realtà, andando qua sotto, mi suggerisce, oltre a Chrome, di selezionare Mac OS, se seleziono Mac OS, torno sul mio main punto d'arte, e eseguo da qua la mia applicazione, questa volta cercherà di eseguirla su Mac, e quindi lancerà un'applicazione per Mac OS, intanto qua c'è una scritta rossa, ma comunque lui va, quindi aspettiamo che buildi, ed ecco che ha lanciato un'applicazione su Mac OS, quindi questa invece adesso è un'applicazione per il sistema operativo, ma non è finita qui, sempre stoppando prima e poi andando a selezionare un altro terminale, avendo installato Android Studio e tutte l'SDK di Android, posso lanciare anche un emulatore di un dispositivo Android, eccolo qua, questa volta faccio play sulla mia applicazione, lancia questa volta Gradle, perché stiamo parlando di Android, sta generando la pick-up, eccola qua, ed ecco che per magia mi trovo adesso l'applicazione su Android, fico! Ultimo ma non ultimo, chiudiamo qua se non il mio computer esplode, infine qua gli diciamo un bel Start iOS, parte il nostro iPhone 14 Pro Max, qua non badiamo a spese, e se faccio play questa volta nell'applicazione, come per magia, viene eseguita anche sul nostro iOS, quindi direi fantastico, capite che è una figata, io sto usando Visual Studio Code, da Visual Studio Code vi dico su quale dispositivo, sto usando gli emulatori nativi, perché uno è di Android Studio e uno è di Xcode per iOS, posso lanciare direttamente un'applicazione desktop, oppure posso lanciare sul mio Chrome la versione web, mi manca la versione Windows, però vedremo se farlo oppure no. La cosa però interessante è che sono il mio primo giorno, ho fatto il mio Hello World, per quanto abbia scaricato davvero tantissimi file, abbia dovuto impostare un po' di cose, ma non così tante, onestamente, la flessibilità in cui mi sono trovato, già avere un'applicazione che, voglio dire che non c'è niente, ma è anche un minimo stilizzata, se vogliamo, per me è tanta tanta roba, quindi sono molto molto contento, oggi pensavo che a un certo punto avrei trovato un errore che mi bloccava per metà giornata, invece è tutto dato abbastanza liscio, quindi sono molto molto soddisfatto. Domani ci dedichiamo solamente a capire meglio la struttura, dei widget, delle classi, la gestione degli stati, domani o fin quando servirà, dopodiché passeremo al progetto della nostra app per gestire la mia piattaforma di corsi, quindi vediamo poi a andare domani. Giorno 2, oggi giornata tranquilla, non mi sono messo più a giocare con gli emulatori, iOS, Android, eccetera, mi sono concentrato sul codice. Mi sono studiato un po' come funziona la user interface in Flutter, quindi tutti i vari componenti, come si incassano tra di loro. Devo dire che quello che ho trovato è abbastanza semplicità nel costruire le cose. C'è appunto Material, anche qua Material Components, che dà già un sacco di cose già fatte. Devo prendere un po' confidenza con queste super componenti innestati. Vedete qua per esempio che c'è un continuo innestare, mi perdo spesso tra parentesi, punto e virgola, e figli dei figli dei figli, quindi non so se magari si può fare sicuramente meglio, però devo dire che con questo sto cercando di prendere un po' più la mano. Dopodiché ho guardato come interagire agli eventi e anche come creare finalmente uno stato, come gestire uno stato. Non ho fatto niente di più che un counter. Come vedete, un counter rispetto a un'app base che ho fatto ieri. Stendo un stateful widget, gli altri sono tutti stateless, quindi c'è uno stato da gestire, bisogna creare un'altra classe che vada proprio a estendere lo stato del mio componente. Poi dentro lo stato è sempre molto simile con questa build di tipo widget. qui vai con un metodo a incrementare lo stato. Dopodiché ho pensato un po' a quello che poteva servirmi sempre a livello basico per il mio progetto pratico. Mi servirà un po' di navigazione, perché avrò l'elenco dei miei corsi, vorrò entrare in un corso e vedere il dettaglio con tutti i video. Quindi mi sono messo a fare una to-do list molto basica, in cui però ci sia appunto la navigazione. Vedete qua c'è il routing. Ho sclerato un pochettino con i tipi, perché non capivo bene come creare alcune cose su questa lista, però mi sono messo a vedere varie documentazioni anche di Dart per capire meglio la sintassi. Questione di sintassi comunque, navigazione non è stata troppo complicata. Il risultato attuale è questo qua. Come vedete qua c'è una barra, che è l'app bar che ti dà già Map Material. Ho la mia lista, la mia List View, e se clicco su uno dei miei item vedo il dettaglio di uno. Quindi faccio una navigazione passando un dettaglio. Questo dovrebbe servirmi poi nel mio progetto pratico. Onestamente approcciando oggi solo il linguaggio con calma continuo ad avere una sensazione piacevole. Ho notato questo grande innestarsi che mi dà un pochettino un senso di spaziamento a volte, ma continuo a piacermi. Quindi per adesso Flutter alla grande. Giorno 3. Sarà che siamo a metà settimana e la stanchezza inizia a farsi sentire. Oggi ho notato di più quanto complesso sia comunque entrare in tutta l'ottica di Flutter, tutta la sintassi, tutti i vari componenti. Detto questo, lo studierò sicuramente alla fine di questa settimana perché mi sta piacendo tanto. Cosa ho fatto oggi? Allora oggi volevo dedicarmi un po' agli input, agli form, perché avrò un form di login quindi ci sta. Ho visto comunque ci sono i vari text field, i vari tipi, c'è il material design che vi aiuta ad avere già dei componenti carini. Ho visto un po' come fare la validazione, tutto tra l'altro ho usato un package, email validator, semplicemente per installare un pacchetto perché non avevo installato e volevo vedere un po' come funzionava. Ho installato un pacchetto. Questo è il risultato quindi come vedete già è facile fare un minimo di grafica grazie al material design. Dopodiché cosa ho fatto? Nel codice ci sono i controller per gestire qua i nostri text e prendere poi i valori. Io qua quindi ho fatto semplicemente un form con mille cose innestate ma non so neanche se siano giuste però funziona anche graficamente al click lancia questo metodo con cui faccio un'autenticazione molto sicura in cui ci ho ficcato quale cosa. Se vedete infatti c'è un validator col pacchetto che ho utilizzato scrivo così email non valida perché il formato non è valido se gli mettiamo il formato giusto è una password sbagliata come vedete mi appare qua il messaggio che il login è sbagliato se invece mettiamo la password giusta ho ripreso la navigazione che abbiamo visto ieri e quindi ho creato un po' autenticazione navigazione ma non finisce qua perché poi cercando vedendo ho questa funzione comunque asincrona questo feature che è molto molto bello una funzione asincrona questo feature davanti mi piace visto che tutto si è fatto abbastanza tranquillamente sono andato a vedere come fare una chiamata reale HTTP quindi fare una specie di login reale ho trovato un servizio a caso che fornisce una specie di autenticazione finta giusto per trovarla e mi sono creato quest'altro metodo che effettivamente fa una chiamata verso questa API finta e prova a prendere user e password che gli diamo e le va a mettere in questa API e gestire da lì la risposta quindi se al mio click io adesso gli metto un altro bottone adesso gli mettiamoli sempre una password sbagliata adesso in questo caso mi arriva la risposta HTTP dalla chiamata quindi se gli mettiamo la sua password come vedete ha funzionato qua un access token mi ha stampato un attimo la security qua non conta ancora quindi stampiamo anche l'access token però anche fare questo è stato abbastanza semplice ripeto mi perdo mi perdo da parte nella sintassi però a parte la complessità della sintassi c'è proprio un discorso di vastità di tutto cioè tutto il sistema framework e anche il linguaggio mi chiederà molto tempo e studio ripeto lo farò alla fine di questa settimana perché penso che mi addentrino abbastanza in questo mondo che mi sta piacendo però domani andiamo sul pratico la nostra app i nostri corsi quindi andiamo a vedere come integrare su Babase e fare tutto il resto giorno 4 oggi entriamo nel vivo del progetto pratico anche se in realtà nel farlo ho studiato altre cose che dovevo vedere qual è il progetto? questo è il mio sito juppi.dev in cui ci sono i miei corsi tutto quello che faccio nella mia academy e ha un'area privata se vado su login qua e dentro si vedono tutti quelli che sono i corsi che ci sono già stati quindi le varie registrazioni e man mano che partono i corsi per esempio qua vedete che parte il nuovo corso di Next il 6 settembre lì poi ci sarà anche quello con tutti i suoi video quindi devo interfacciare Flutter con Supabase Supabase come ho parlato già in un altro video l'ho utilizzato perché fornisce un database un'autenticazione quindi con un client facilmente si ha tutta la parte diciamo server back end con un po' di servizi interessanti è il database appunto e la cosa molto interessante è che tra le varie dock di Supabase c'è anche ovviamente quella per fare con Flutter un'applicazione base con la parte di autenticazione che è un po' quello che mi interessa e andiamo a vedere cosa ho fatto oggi l'idea è quindi che ci sia una schermata iniziale di default che adesso vi faccio vedere poi c'è o la pagina di login oppure una pagina in cui si è logato adesso ovviamente è tutto molto acerbo la root in realtà è questo splash screen che quando parte controlla se c'è una sessione attiva va sulla pagina in cui si è logato altrimenti va sulla pagina di login molto carino la pagina di login l'ho presa praticamente da ieri e cosa ho aggiunto ho aggiunto tutta una gestione nello stato iniziale per ascoltare i cambiamenti nella sessione questi sono metodi di super base che mi permettono di capire se mi sto loggando oppure no ovviamente invece che fare una chiamata http questo non serve più infatti vengo questo quello che faccio è usare un metodo di super base per fare il login e mandare user password dopo che fai il login ora se vado sulla mia applicazione mettiamo la mia mail mettiamo una password sbagliata come vedete mi dice invalid login credentials questa è la risposta di super base se invece mettiamo la password giusta mi fa loggare e cambia di percorso con la navigazione di flutter è andata abbastanza liscia c'è un progetto pratico appunto di super base che mostra l'autenticazione di un flutter quindi mi è bastato seguirlo in realtà però l'ho fatto passo passo ho scritto tutto io ho disabilitato codeium qualunque aiuto sto cercando di scrivere tanto per imparare il più possibile la sintassi e anche i meccanismi di flutter domani andiamo sulla seconda parte della nostra app ovvero dopo che ho fatto il login voglio vedere nella lista ma penso sarà facilissimo dovrò fare solo altre chiamate al database di super base magari non sarà così facile ma magari sì poi l'ultimo giorno ci dediciamo a quella grafica e a farlo partire magari sul cellulare che è un po' l'obiettivo finale quindi anche oggi flutter è andato giorno 5 sono riuscito sia a fare le ultime cose che mi mancavano per la mia app ma in realtà ho avuto il primo grande problema con flutter allora dopo il loading che ho fatto ieri si va a finire adesso su una pagina di corsi come potete vedere che fa una query sul database di super base e con questi bellissimi feature builder va a costruire parti della mia applicazione solo al completamento di una funzione asincrona quindi ho visto anche questa parte qua interessante poi nel dettaglio invece mi vado a prendere le singole lezioni di un corso per stamparle se andiamo a vedere adesso quando entro nella mia app vedo la lista dei miei corsi su ogni corso vedo una lista di lezioni che vengono presi dal database bello il problema è che qua poi volevo mettere direttamente i video un video player per far vedere i video direttamente dall'app e mi sono scontrato con degli errori che non sono riuscito neanche a debagare perché non mi ha dato grandi errori e dopo averci ragionato e perso tempo su ho capito che forse era too much per questi sette giorni quindi è un problema che affronterò dopo ho deciso semplicemente nelle lezioni di dare la possibilità di andare verso la lezione quindi se clicco sulla mia lezione si apre la lezione devo ancora mettere lo stile però comunque ho tutto completo e altra cosa molto carina non posso farmela vedere perché sto riprendendo ho eseguito il tutto sul mio cellulare sul mio iphone e quella parte anche lì ho dovuto configurare un po' di cose buildare da xcode da visual studio code non funziona certificati eccetera ma sull'app sul mio cellulare ce l'ho quindi video player a parte che magari riprendo con calma ho tutto quello che mi serve quindi nei prossimi due giorni infiocchettiamo il due tutto gli diamo lo stile brutale come sul mio sito e direi che siamo arrivati a un ottimo punto eccoci finalmente ci siamo dopo due giorni passati a stilizzare tutto lo stilizzabile ho aggiunto qualcosina che mancava tipo il logout è sclerato un po' per buildare farla funzionare sia su US che Android eccola qua questa è l'icona di Jupy Dev non so se si vede e se ci clicco sopra mi apre l'applicazione quindi ragazzi abbiamo l'app adesso però ve la faccio vedere dal monitor eccola qua questo è l'iPhone emulato in realtà l'ho anche eseguita sul mio iPhone direttamente collegandola col cavo quindi ce l'abbiamo come vedete lo stile è brutale come il resto del mio sito e quindi sono molto contento tra l'altro nello stilizzare ho messo molto molto mano il codice e quindi anche la sintassi adesso mi è molto più familiare perché lo stile è un po' più semplice a livello di logica ma ho dovuto toccare dappertutto e devo dire che non è neanche difficile farci un po' quello che volete con lo stile se facciamo il login l'applicazione si presenta subito così con la lista dei corsi qua abbiamo il corso react completo e qua la masterclass iniziale a cui si aggiungerà stasera parte la masterclass su TypeScript e poi si aggiungerà via via tutto il corso next quindi mi raccomando se non siete iscritti alla mia academy vi aspetto trovate tutti i link da tutte le parti entriamo su un corso abbiamo l'elenco delle lezioni con tutti i dati che servono avrei voluto embeddare direttamente qua i video ma come vi ho raccontato ho avuto dei problemi ho preferito lasciar perdere lo farò più avanti ma se cliccate vi porta poi al video un po' lento a caricare ma vi carica il video della lezione sono molto contento di come è venuto in generale lo stile sono riuscito a replicarlo tranquillamente tra l'altro ho aggiunto anche il logout qui e quindi i flutter è stato molto interessante ma tiriamo un po' le somme allora come è andata questa settimana con i flutter quali sono i pro e i contro per quello che ho potuto vedere penso che il pro più grande sia la versatilità che promette flutter dicendo potete sviluppare con una codebase su tutte le piattaforme effettivamente sono riuscito al primo giorno avevo un hello world ovunque adesso anche l'applicazione sono riuscito a farla ovviamente poi ci sono i problemi legati alle singole piattaforme iOS, iPhone qualche errore a caso me lo continuano a dare anche adesso però comunque flutter mi ha permesso di avere la mia applicazione anche volendo desktop molto molto semplicemente senza grossi problemi quindi questo assolutamente positivo per quanto riguarda Dart e tutta la sintassi linguaggio e programmazione per quel poco ovviamente che ho visto quindi non posso neanche avere chissà che parere però l'ho trovato comunque piacevole la sintassi su flutter con tutto questo annidamento continuo di elementi sicuramente può essere un pochettino poco amichevole soprattutto all'inizio ma con la pratica si capisce meglio come rientarsi ma devo dire che la struttura con questi widget gli stateful widget stateless non rende troppo complicata tutta la struttura dell'applicazione anche il routing per cambiare pagina è vero che ho toccato poche cose quindi non posso neanche sbilanciarmi troppo però devo essere sincero la questione è che non ho trovato questo grande ostacolo nel creare l'applicazione non mi sono perso per andare da una parte all'altra file diversi l'ho trovato molto lineare quindi penso che flutter sia molto amichevole almeno la mia sensazione è che la difficoltà iniziale la curva di apprendimento non sia così elevata magari poi dipende da di bias che ho io ma l'ho trovato molto molto interessante quindi devo dare un parere finale è che continuerò a studiarlo mi è piaciuto un sacco probabilmente continuerò a lavorare sulla mia app perché voglio integrarci in un sacco di cose voglio vedere come fare animazioni voglio aggiungere funzionalità magari sistemare sta benedetta cosa dei video quindi ne sono rimasto molto molto soddisfatto non posso fare troppi paragoni con React Native che in passato ho utilizzato magari in un altro video ne parleremo così proverò a fare un confronto magari diretto facendo la stessa cosa con entrambi i framework però Flutter mi è piaciuto e consiglio a tutti di giocarci un po' perché è molto molto facile farci qualcosa e secondo me verrà anche a voi la voglia di approfondire fatemi sapere nei commenti se già siete sviluppatori Flutter cosa ne pensate vi lascio in descrizione tutti i link possibili a tutto quello con cui ho studiato la mia repository se volete dare un'occhiata a sto codice abbiate pietà e fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate di questo video e secondo voi quale sarà il prossimo argomento che studierò in questo format che mi piace sempre un sacco perché mi obbliga a studiare come sempre grazie per aver visto il video noi ci vediamo alla prossima